attenzione il drone è alleato ha trovato una bomba il drone è alleato ha trovato una bomba questi droni sono quelli che ti fanno venire alibi vigile tipo questo no nuovo caricatore i vettori hanno eliminato tutti i voci si si planta 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 i vettori neutralizzati vittorico ti attaccato che cazzo è? l'avete visto? no vedi i pulmieri là sopra poi si è abbassato anche a me ah succede di me qua nelle scale dietro sulle scale ciao più ciao più ah credo che me lo facevo no no ma che puttana ho fatto la kill ho fatto la kill e mi ha ucciso ma ma che ho giocato il fio eheh va bene giaccallo 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 svegli cosa fai giaccallo cosa stai facendo giaccallo a prendermi guarda lì quanti cadavere mio dio purete nooo nooo madonna ma che fai è atterrato è atterrato non ucciderlo non ucciderlo non ucciderlo lascialo morire proteggete le bombe disattivate il disinnescatore no non ucciderlo no aspetta ecco hai ucciso non ucciso non ucciso non la scegli a guardare ah grazie siiii grazie mille che si era chi questa è quella cosa più tossica ma quasi mi vergogno di averlo fatto no non 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 è c'è il sintetico rischi non siamo rischi sono rischi rischi non rischi si che eh che Che timing! Che timing! Dai, non so che... Non si sa bene... Ma le fatti colpi, eh? Che cazzo... Vieni, finimolo via! No, non c'è mai qui! Ma cosa? Ah, mi ha preso un... Oh no! Vabbè, c'è tutto il capo che ho preso... Blast finger! No... Lo vuoi... Cambio caricatore! No, noni. Sono ritorno molto... No, no, aspetta, aspetta. No, 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 fai 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 fai, no, 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 no... Ma finita e vai tu! No! No! Sì, 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 sì Stagli l'avrei aspettato Avrei aspettato, avrei aspettato Avrei aspettato Spompi, spompi Spompi, spompi Nope Non scelta più Sì Ultimo attaccante rimasto in vita Granata avanzata Ricarico Stagli 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 Ma va che Ma ce l'ho chiuso No, che cazzo Oh, che cazzo è? Non ucciderlo, non ucciderlo Lascialo lì, esci dal gioco, adesso ti dico quanta vita ha No no no, lascialo lì Quando sta per morire usciamo dal gioco No, sta per morire, esci dal gioco, sennò ti vanno No, no No? E ti uccide Non lo butti Ma andà Ma andà Ma andà Ma andà I Jackson Ma andà Ma andà Mh Dov'era? Dov'era? Eh, non l'ho visto Non guardare OLE Ricarica Ah, sta fuori Non hai più il disinnescatore Abbiamo il disinnescatore Minchia, la perfezione cosa ha Morto solo uno, non prendiamo Non prendiamo Precisa Oddio Mamma Taccia il disinnescatore che mi ha fatto Daffi Nooo La è fuori Attenzione, il drone è alleato ha trovato una bomba Il drone è alleato ha trovato una bomba No Ah, di più Non l'ho visto, l'ho visto Eh, boh, è solo l'iso il video Pettiamo, pettiamolo Ah, ha plantato Aspetta, aspettate Sì, sì, sì Behind, behind, behind Dorme 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 questo Ciclato e schiazzato Ciclato e schiazzato Ma è spana, no? Eh, balacca è il ciclone qui L'ultimo nemico di No, non più capiamo Il drone è sempre Dorme No, ti rimane Dorme 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 Con Platino Ho fatto un montap Sì Ma dove sta? Ah sì, è vero è lui È lui Rip troll Sono il team È troppo calmo Qua da me, qua da me Sinistra Dorme Dorme Cos'era questo? Vediamo Ok, no, è uno, non lo faccio Sì Schiazzato Di non c'ermi una gomitina Rimane uno Hai IQ Elite Ciao Bronzone Bronzone Rituale Ah Rituale Non ho da ragione per trovare una bomba Finchè fare kill puoi usare anche Eh, anche la Anche la mia no, la puoi usare Sì Se guardi Il canale Basica di Homeless Sì, lo sa, lo sa È molto brutto Trovava la bomba Lo stavo incazzando È brutto la trovata dopo che il drone era stato distrutto Jammer Da Kim Jong-un Cosa fa? Why? Snidge Why? Si è suicidato La finestra l'abbiamo spaccato a 2 minuti Ah sì, c'è a Fuse lì Eh sì Era lì della finestra a quanto pare Si sono uccisi a Vicenza Va bene Va bene Ok, ok Si, si è qua All we stock Sto pushando Eh, di fatto c'è la campi a me Si, aspetta Madonna Difensione di attacco Missione di attacco riuscita GG E si batte nei platini Et voilà Et voilà Dietro al mira, è dietro al mira E l'altro E l'altro E l'altro L'altro dove cazzo è? Sette in due eh 2v2 Non lo vedo Non lo vedo Non lo vedo l'altro Rimangono 10 secondi 5 secondi Menchia prendo nostalgia Donna Bella Ubison Bella Ubison L'ho anche visto eh Che puttana Guarda lì che mi ero buggato Non lo vedo X Dì Hai Contro Quattro Fì Grazie per la visione